Peppe Scotto, assessore alla viabilità del comune di Bacoli, quest'anno non si pagherà il ticket, una buona notizia per quanti verranno a fare il bagno a Bacoli? Una buona notizia limitatamente. Il problema del traffico a Bacoli è notevole e nella giornata dell'altro giorno, nel primo maggio, è stato un evento eccezionale dove tutti hanno sofferto. Sicuramente è stato un evento eccezionale dove sono affluite a Bacoli migliaia di auto, cosa che nelle previsioni sicuramente non ci sarà già a partire da questo fine settimana. Tuttavia il ticket è uno strumento che ci consente di limitare l'accesso su un territorio che ricordiamo è una penisola, ha pochissime strade di accesso e pochissime strade di fuga, per cui dei dispositivi che limitano l'accesso dei veicoli nella zona è sicuramente necessario. Ma adesso che non c'è più questa limitazione del pagamento del ticket, ci saranno più macchine, più veicoli che verranno a Bacoli, i parcheggi sono sufficienti per ospitare tutta questa gente? Sicuramente le attività ricettive negli anni si sono evolute sul territorio, quindi non abbiamo un litorale che ospita tantissime migliaia e migliaia di persone, siamo nella prossimità della città di Napoli che quindi Bacoli e l'intera Raffregrè è un grosso attrattore per i pendolari che vanno a fare la bagnazione. Tuttavia le attività si sono evolute, noi riscontriamo in base ai dati sul piano del traffico che stiamo in via di conclusione per adottare, rileviamo più auto in entrate e in uscita anche durante le ore serali e non soltanto nelle ore mattutine e diurne. Quindi come pensate di risolvere il problema? Sicuramente sarebbe auspicabile aumentare le aree di sosta, anche se su questo ci stiamo confrontando con altri enti, sull'opportuno o meno di ampliare queste aree di parcheggio. Potrebbero essere utilizzate le aree demaniali? Questo non compete solo a noi, dal momento in cui abbiamo dei vincoli paesaggistici, vincoli di varia natura, che ci limitano anche l'apertura di parcheggio in zona. Ciò che sicuramente stiamo facendo, adesso inizierà un incontro anche con i sindacati, è quello di implementare il corpo dei vigili urbani già da subito a partire con dei vigili estivi. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Pozzuoli, nella persona del sindaco Figliolia e dell'assessore allevabilità a fumo, che hanno predisposto già un ottimo servizio, perché noi dipendiamo molto anche dall'ingresso in città, quindi a partire dalla rotonda di Lucrina, dal tunnel. Pozzuoli ha predisposto un servizio di chiusura del tunnel proprio per evitare l'eccessiva permanenza all'interno del tunnel e stiamo collaborando per presidare meglio l'autonta di Lucrino, che sicuramente è un tappo sia in entrata e in uscita che dei veicoli che arrivano e vanno via dal territorio. Grazie. Grazie.